amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo del tremendo incidente che è costato la vita al famoso attore grave lutto per il cinema italiano ci lascia un personaggio che ha collaborato con tutti i più grandi registi e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo seguitemi sulla pagina facebook marco liguori news per non perdervi i video inediti un incidente in california ci ha portato via un protagonista un attore di tante pellicole soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e anni 80 questo in foto era john steiner attore che ha collaborato con tanti registi ne ricordiamo alcuni carlo verdone sergio martino tinto brass dario argento e lucio fulci ricordiamo anche alcune pellicole zanna bianca il ritorno di zanna bianca ondata di piacere i due carabinieri troppo forte tanti altri john steiner ci ha lasciato a 81 anni fatale un incidente alla quinta in california amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video